La giornata delle donne vista con gli occhi dei bambini, degli alunni, è il progetto fortemente evoluto da Maurizio Tedesco, dirigente scolastico del comprensivo Salvatore Quasimodo. Un momento di riflessione che ha coinvolto, come dicevamo, studenti e docenti. Già a partire dall'anno scorso tutta la nostra scuola elementare è stata coinvolta in questo progetto che si intitola Essere con gli occhi delle donne, che appunto vuole promuovere una riflessione sul tema della parità di genere, dell'uguaglianza dei diritti fra uomini e donne, soprattutto tra i bambini, perché è proprio correggendo delle cattive abitudini che forse si assumono, a volte in famiglia, che si può realmente promuovere la parità tra uomini e donne. Ma ci sono queste cattive abitudini, come lei sottolineava, in famiglia? Io credo di sì, ancora noi, soprattutto al sud Italia, penso che viviamo questo retaggio culturale e soprattutto credo che si debba mirare non tanto alla capacità delle donne di potersi proporre, quando soprattutto si deve mirare ad una riflessione articolata degli uomini sulla importanza della parità di genere, perché probabilmente spesso siamo noi impreparati rispetto a questo argomento. Nel corso dell'iniziativa di oggi sono stati esposti, vanno fatti, dedicati interamente alle donne. L'avvocato Giovanna Cassarà, responsabile locale di UDI, Unione Donne Italiane. Io veramente ringrazio le scuole per farsi promotrici di questi valori importanti, quali quello del rispetto della donna, soprattutto attraverso i bambini più piccoli. Come oggi la scuola, brillantemente retta da Maurizio Tedesco, ha voluto fare, proponendoci l'invito di volere dare il nostro contributo, oggi che noi come donne dell'UDI festeggiamo il settantesimo anno dalla conquista del diritto al voto. Ma oggi è un giorno di festa o è un giorno triste? Ma io ho sempre ritenuto che non si debba parlare di feste, ma di giornata di riflessione e di confronto tra le donne e gli uomini. Però voglio propormi in maniera positiva dicendo che deve essere anche una festa per le conquiste che abbiamo fatto, tra cui appunto quella del suffraggio universale e per tutto quello che ci proponiamo di fare. Quindi le donne insieme agli uomini, perché gli uomini sono complementari ed importanti, dobbiamo festeggiare questa giornata speciale.